Dottore Caruso, parliamo un po' dell'attività delle volanti, del servizio volanti e soprattutto dell'impegno nei confronti di questa città. Sì, mi sono insediato circa otto mesi fa e con i ragazzi abbiamo subito instaurato un rapporto di stretta collaborazione e siamo intervenuti in tutti gli ambiti delinquenziali, così possiamo dire, della città. Una città difficile, come immaginabile, e abbiamo esplicato il nostro impegno in diversi campi. Il controllo del territorio alcune volte, se fatto bene, può esitare anche nella individuazione del responsabile di chi ha violato la tranquillità di un certo quartiere oppure di una via. Facciamo un esempio, sia San Francesco che riguarda questi ultimi giorni, ma dobbiamo ricordare anche Fondo Gesù, Sì, quartiere difficili e quest'ultimo. San Francesco, l'arresto di ieri sera, un litigio fra due persone, un cinquantenne con un poco più che trentenne, è esitato poi in un accoltellamento, una prognosi di 30 giorni da parte del ragazzo. Sono cose che non dovrebbero accadere perché il luogo che è stato teatro la vicenda è una piazzetta frequentata anche da anziani, da ragazzi, e quindi non potevamo permettere che la facesse franca è l'accoltellatore, così possiamo definirlo. Infatti è stato intracciato dopo pochissimo tempo dal fatto e poi arrestato dalle volanti. L'attività delle volanti dunque è il controllo del territorio. Per i cittadini che cosa rappresenta questo controllo? Rappresenta sicurezza, tranquillità, rappresenta la possibilità di circolare liberamente senza sentirsi compromessi, soprattutto in colomità.